10 Dicembre 2019 10 Dicembre 2019 Messaggio di Nostra Signora Cari figli, sono la vostra Madre addolorata e soffro per quello che viene per voi. 11 Gli uomini perversi giudicheranno Mio Figlio Gesù e i fedeli saranno puniti, perché non lo troveranno in molti tabernacoli della Terra. 12 Camminate per un futuro doloroso e solamente con la forza della preghiera potete sopportare il peso delle prove. 12 Qualunque cosa accada, non vi dimenticate. 12 Il Mio Gesù è presente nell'Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità. 13 Ripeto, non vi dimenticate. 14 In tutto Dio al primo posto. 15 Io vi amo e sarò sempre con voi. 15 Amate e difendete la verità. 16 Non c'è vittoria senza croce. 17 Coraggio. 18 Coloro che rimarranno fedeli fino alla fine saranno proclamati i benedetti del Padre. 19 Avanti nella difesa della verità. 20 Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. 19 Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. 20 Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.